Ciao amiche e ciao amici, qual è un metodo infallibile per evitare il rifiuto, evitare di essere rifiutati? Un metodo infallibile è quello di evitare di chiedere, cioè per evitare di ricevere un no, essere certi di non ricevere un no, bisogna evitare di chiedere. Ma allora uno dice, ma come faccio a ottenere? Beh, tieni presente intanto che chi chiede è già perdente, parte già perdente, perché delega all'altra persona la possibilità di dirgli sì o dirgli no e quindi se gli dice sì va bene, se è accettato ti senti bene, se ti dice no invece ti senti rifiutato. Quindi la cosa fondamentale è evitare di chiedere, si può ottenere senza neanche dover chiedere. Prima bisogna però erogare emozioni, noi se riusciamo a erogare emozioni all'altra persona, poi non abbiamo neanche bisogno di chiedere, non so, vuoi venire a cena con me questa sera? Basterebbe dire, ah mi piacerebbe una sera uscire con una persona speciale a cena, chissà se la troverò mai. E questa persona qua, se gli ho dato un servizio emotivo e sei coinvolta, si dirà, vabbè, se vuoi venire a te. Insomma, si manifesterà, sarà lei o comunque ti darà dei segnali talmente evidenti che vuoi venire a cena con te, che a quel punto lì non si tratta neanche più di chiedere non sapendo, sai certamente che a cena con te ci verrà, per fare un esempio. Quindi se vuoi evitare di essere rifiutato, questo è l'unico modo sicuro, infallibile, certo. E questo è anche l'essenza della seduzione, perché l'essenza della seduzione non è chiedere, e offrire. E quando tu offri, emozioni ovviamente, poi ricevi automaticamente. Se invece chiedi, ti metti proprio in posizione da sfigato, ti metti in posizione down, ti metti in posizione da perdente o da bisognoso, per cui quello che riceverai potranno essere qualche volta dei sì, molto più spesso dei no e comunque tenderai a viverti molti rifiuti. Per cui evitare di chiedere è l'unico modo per evitare di essere rifiutati ed è l'unico modo veramente giusto per sedurre. Devi offrire, non chiedere, offrire. Offrire emozioni. Dopodiché automaticamente basta esprimere, come dire, un'esigenza, anche piccole, se non altre persone che verranno a cercare di gratificare questa tua esigenza, proprio per il fatto che tu gli hai offerto delle emozioni e la loro parte emotiva non vuole perdere questo servizio. Però bisogna imparare a mettere da parte le proprie esigenze e entrare a soddisfare le esigenze emotive degli altri. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda, postate nei commenti e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao!